Ho scritto The Fraxium Total Con Rivel Capsuleock. Basta non dirvelo. Vero. Lui, questo Rob, Robsy, ha un giga, beato qua, tanta scienza, fa proprio su. Ma chissà quando arriverà? Eh, spero che mi preoccupa. Non credo a Cagliari, comunque Cagliari ha lì, è molto vecchia, non... Eh, ma se non arrivate le pratiche, capito? Beh, quando era che hanno passato per la Fidra? Quattro anni fa a Cagliari hanno iniziato con i primi tubi della Fidra. Si, si, si. Eh, qua... Ho lasciato la moffera all'acqua, sentenne, eh, perché non gli hanno... non hanno metto la voce. Sì, si, hanno lasciato così, come così. Infatti è pieno di tubi trasparenti blu in giro per Cagliari che spuntano con quelli che era... Eh... Ma buttare soldi neanche a piedra. Eh, vabbè, ma molte case sono molto vecchie, quindi... Hanno proprio il tono che si staccano, puoi montarci nulla, comunque. E anche quello è il problema. Molti, in generale, non hanno fibra, oppure che non vogliono la fibra. Se poi c'è sempre il discorso muro in pietra. Eh, giusto. Poi c'è il mente armato, dovrebbe dare anche problemi al... dovrebbe dare il bisturgo, no? Tu metta la rocchia lì dentro. Ah, beh, sì, lo metterò, quindi io stavo a rocchia la candellata qui. Non c'avevo pensato, inizio, poi non l'ho fatta per fortuna. Il cartone di sopra, la rocchia la rocchia lì dentro. Minchia, se facevo quell'errore... Addio. Addio, Lugio. Ho detto, bene, perché faccio la ragazza di Farabay, nemmeno niente entrava qui dentro. Proprio a zero. Ma sta malato. Allora... Il problema è che non so se Defraxion conosce veramente bene il backup. So che hanno giocato parecchio nei raduni, comunque si sono incontrati parecchio nei tornei. Però Yoshimitsu è uno di quei personaggi un po' strani. Sì. Perché anche se ha quelle Pokémon che tutti conoscono, ha tanti trucchetti. E questi trucchetti, per la maggior parte, sono diversi per ogni giocatore che giocava con un personaggio. Ok. Quindi, più che giocare contro il personaggio, perché alla fine il personaggio basta imparare cosa puoi punire, cosa puoi daccare, steppare. Per il resto è conoscere il giocatore che ricorda. Ok. Questo è. Però la stanno giocando. Sì. Perché è da vedere anche quanto Zelda du conosce dell'altro personaggio. E anche questo è il problema. Quindi quante ne mancano ancora? È un bel po'. 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 Sì sì. Dopo i quarti di finale andiamo in pausa per cinque minuti. Tanto si gira la prima loser e poi dalla loser 2 ricominciamo sicuramente. Poi non so quando ci sarà la loser se ci sarà il Kamil Hendrix nel caso. Che se lui rimane il winner. No. Soprattutto non sei dietro siamo. No. Soprattutto non sei dietro. Ma anche al massimo mi ha sempre notato non vorrei essere usigenare il tuo mondo. No sei tanto. Ero. e quello sarebbe bello avere un caster il caster sarebbe un bicho comunque è combattuta 2 a 2 accidentaggio quello che stanno io me ne sono portato all'inizio o lo flotta ce la fa? no? sbaglia la combo attenzione attenzione sceglie ovviamente il mix up e viene pulito ci sono più questi? no questo è giusto per i gironi adesso ce l'abbiamo lì proprio davanti è più semplice, questo è perché era in croccio questo è perché è pallo oh se le due sceglie lo stage infinito sono allora ft2 fino alle gran finale o comunque la loser final poi da lì si parte con l'ft3 quindi il primo che è la quanti siamo? esatto salutate tutti ragazzi non fate silenzioso insomma cercate di una settimana è esattamente eh il problema è che ci sono che seguono tra i tassi ma siamo all'inizio ultimamente eh impiega perché sentiamo sentiamo l'eco dopo 7-8 secondi buonissimo low page mix up la prendo? la prendo sì sì poi sicuramente a febbraio ricomincieremo col campionato poi nel mentre ci sono tutti i vari torneini tutte queste cose che possiamo fare ad esempio un torno di Natale eh non so perché guarda mi hai letto il torneo a te ma tanto rosso sei già rosso esatto bravo bravissimo hai capito tutto ci sta anche perché la Natale penso sia quasi finita praticamente finita non sarebbe mi amore gli ultimi gli ultimi problemi tecnici tipo vedi secondo me perché non ho impresa dire perché c'è lo switchettivo sì 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 non è parato questo no ci vuole un cavolino e comunque a 30 anni ci arriva anche questa no lagga però quella che devo mettere no questa no vabbè questa è diretta direttamente attaccata non c'è più flash toglie tutti i problemi lo spazzatone prende sempre anche a me è proprio orribile vedo la maggior parte dei bassi ma non quelli dove il personaggio si appiattisce del tutto per qualche motivo spariscono dalla mia visual defra defraxion passa esatto musica Grazie a tutti